quindi che cos'è la fotografia digitale come come che cos'è per un fotografo di una volta per i maestri fotografi che non lavoravano al digitale potremmo chiederlo al a gabriele basilico chiedendogli anche quindi che cosa ne pensa di un progetto come questo strano chiedere uno come me cos'è la fotografia digitale beh certo non lo sapete io diciamo per adesso io ho il mio collaboratore claude sabatino che è il passaggio come dire è il ponte elevatoio per riuscire a stare diciamo da una parte dall'altra di un arcipelago digitale un arcipelago analogico io quello che vedo in giro intorno a me della fotografia digitale mi interessa molto penso che il mondo non solo diventerà digitale ma lo è già quindi chi usa la fotografia tradizionale probabilmente si rende conto di appartenere al passato ma questo anche un po più importante perché credo che in questi secoli come dire c'è molto movimento quindi non la storia non è fatta diciamo da qualcosa che prima dopo a volte si rimettono in gioco in particolare poi con nuove tecnologie quindi si va a recuperare c'è un'accessibilità nel tempo come dire più veloce quindi per cui c'è anche più memoria questo che è molto importante io uso la fotografia tradizionale semplicemente per un motivo perché lì ho imparato lì mi sono costruito una storia lì mi sono costruito un linguaggio e come tanti altri anche i più giovani di me c'è una conoscenza del mezzo e una fiducia nel mezzo e una diciamolo pure una affettività nel mezzo che diventa parte del proprio corpo no per cui è difficile decidere all'improvviso di cambiare dall'altra parte sono anche curioso però è perché anch'io la mia macchinetta digitale che sono già cambiato un'altra non ho mai il tempo di approfondire perché ci vuole tempo il tempo non ce l'ho questo è vero sono anche un po lento come dire probabilmente sono anche un po ottuso qualcuno mi dice ma nel senso che non come dire tutto quello che magari posso imparare in poche ore poi afferro di meno afferro poco no però ecco diciamo io e altri fotografi sono inutile fare i nomi comunque fotografi che lavorano anche nel campo artistico che spogliono soprattutto e quindi non fotografi che sono che devono consegnare diciamo dell'immagine un'agenzia a un giornale che di per sé vedo che quasi tutti lavorano digitale ma non solo conosco dei giovani che lavorano poi in analogico e tendono a fare le scansioni perché per diversi motivi che poi potremmo analizzare magari qualcuno potrebbe analizzare meglio penso che i digitali sia una grande risorsa per diciamo partiamo dalle cose meno interessanti per accelerare per spendere di meno per rendere più competente possibile anche con una qualità maggiore perché si riesce allora diciamo una cosa molto semplice se una parte della qualità di una fotografia di formato molto grande è data dalla capacità di uno stampatore di un fotografo di intervenire in camera scura più sul bianconero sul colore perché sul colore si interviene un po meno con la fotografia digitale le cose cambiano veramente molto questo l'ho provato direttamente tant'è che nelle ultime mostre negli ultimi un anno e mezzo eccetera anno e mezzo due alcune fotografie c'è anche una mostra a milano avrà le stampe in digitale anche il passaggio come dire il fatto che uno può scegliere se uno ha dei dubbi no dei dubbi progettuali non dei dubbi così banali ma anche dei dubbi banali perché no se decide di usare il bianconero il colore io fino a qualche anno fa non li ho avuti poi ho voluto provare anch'io come il 90 per cento dei fotografi mi stanno intorno a giovani e vecchi lavorare a colore e mi sono accorto che rispetto ai tempi in cui spendevo dei milioni a prendere dei filtri diciamo cc e cb eccetera della codra per migliorare i colori dove era possibile ed era possibile solo in certi modi compensando le dominanti erano incrociate per cui se metti il verde e correggi il magente viceversa però come dire il problema ce l'hai oggi questa cosa non c'è più con una sapiente intervento culturale in photoshop che non vuol dire sapere molto bene tecnicamente il photoshop e basta vuol dire sapere come deve usarlo e come dire come avere una macchina fotografica di altissimo livello e pensare questo qui l'equivoco fatto materiale un po di anni fa e pensare di fare delle belle foto non devi sapere come usare queste risorse no quindi allora devo dire che lì il il mondo scorrerà e scorre in un modo molto più veloce per cui si può anche pensare io i fotografi che lavorano con me che fanno anche delle foto molto grandi anche più grandi di me nessuno di questi e che hanno approfondito meglio di me sicuramente diciamo il l'universo digitale nessuno di questi fa il riprendimento digitale perché non riescono a ottenere la qualità che gli interessa di un certo tipo il che vuol dire che non può essere non c'è una scala di qualità astratta c'è una scala di qualità come dire personale non è come uno vuole l'abito con risvolto dalla flanella non è che se nel cashmere sia sempre meglio diciamo di donna pettinata non so è venuta in mente una cosa del genere per cui è molto soggettivo questa cosa e quindi come dire stavo perdendo filo sì sicuramente quindi diciamo la scelta del digitale avviene entro certi limiti ma nel tempo avverrà sempre di più per la sensazione che ho che è in grandissima evoluzione gli scanner sono in grande evoluzione le carte sono tantissime rispetto le carte all'argento anche quelle della fotografia le attrezzature credo di classiche delle prime fotografie digitali andranno scoprendo in funzione di quelle diciamo portatili diciamo a come si chiama appunto quelle diciamo tipo epson così no per dire no per cui si potrà ecco lì c'è il problema della lentezza per cui sicuramente questo mondo consentirà moltissimo alla fotografia chi diciamo nel mio campo quello che posso dire non con certezza ma con una prossima attiva certezza che se tu vuoi una certa plasticità diciamo del mondo che fotografi immaginiamo questa sala piuttosto che una parte di architettura di paesaggio la fotografia digitale ti mette in condizioni da quanto ne so io con i fotografi che ci hanno provato in tutti i modi spendendo tutto quello che era possibile e con conoscenze profonde anche più dei laboratori ti porta a una qualità di nitidezza estrema ma non ti restituisce la stessa plasticità se la vuoi se non a come dire a patto di avere dei sistemi come dire dei software di finzione che ti portano a imitare quel tipo di pelle quel tipo di texture eccetera al che uno dice ma se mi rendi conti per quale motivo come dire logico io devo fare tutto un percorso tortuoso per arrivare quello che la pellicola mi faceva sempre anche un po banale quindi anche nel mondo digitale bisogna muoversi con intelligenza e con buon senso e questo è anche uno dei rischi perché se no la gente come dire tende a consumare tutto quello che gli viene proposto questo si sa che non va bene ma non andava bene neanche prima